Alpane, 026884230, ve lo ricordo il numero di telefono, io sono Manuela Donghi, sono questa sera fino alle 19 con Elena Centemero, Forza Italia e Laura Specchio, Partito Democratico. Ripartiamo da questo call center anti-gender proposto dalla Lega Nord in Regione Lombardia. Intanto la notizia di oggi è che il gruppo della Lega Nord ha ritirato l'emendamento al bilancio della Regione Lombardia che chiedeva di finanziare inizialmente con 50.000 euro l'istituzione di questo numero verde che ha l'obiettivo di segnalare episodi contrarie ai valori della famiglia. La decisione è stata presa in aula dopo che gli assessori Massimo Garavaglia e Cristina Cappellini avevano spiegato che la Giunta sta lavorando già all'iniziativa e che quindi non occorreva presentare un emendamento ad hoc per le risorse. Allora Centemero, la vedo un po' scettica rispetto a questa iniziativa. Sostanzialmente i genitori preoccupati da quello che accade alla scuola potranno chiamare questo call center che sarà attivo 24 ore su 24 per segnalare eventuali atteggiamenti poco consoni ai valori tradizionali della famiglia. Centemero. Allora, io sono dirigente scolastico quindi parlo anche da tecnica. A me quello che spaventa moltissimo è questo uso strumentale che la politica fa di determinati argomenti, sia dell'unione civile sia della questione del gender. Voglio dire a tutti i genitori che mi stanno ascoltando, che ci stanno ascoltando, che nella legge della buona scuola non c'è affatto contenuto il fatto che nelle scuole si insegni il gender. Questo è un uso strumentale che è stato fatto da parte di alcune forze politiche. All'interno appunto le scuole possono dar vita a dei progetti che riguardano l'educazione all'affettività, che è sacrosanto che i nostri ragazzi apprendano in un luogo educativo come può essere la scuola, proprio per prevenire anche tutte le forme di violenza che ci sono nei confronti delle donne e per imparare il rispetto tra uomo e donna. Voglio anche ricordare a tutti i genitori che esiste un piano dell'offerta formativa che le scuole fanno, che viene dato ai genitori prima di scrivere i propri figli nelle scuole, nel quale è tutto reso chiaro i progetti che vengono effettuati all'interno delle scuole. Oltretutto questi progetti devono essere ratificati dal consiglio di istituto che è presieduto da un genitore. Quindi io credo assolutamente che questa questione del call center anti-gender sia veramente una forma di discriminazione gravissima, sia una cosa strumentale dal punto di vista politico e che tutte le famiglie possano tranquillamente per conoscere quale tipo di educazione sentimentale rivolgersi… Forse la Lega Nord ha paura di iniziative personali dei docenti, non tanto nel programma contenuto non è un programma, non possono esistere iniziative personali da parte dei docenti perché c'è una programmazione che è decisa dai consigli di classe e dal collegio dei docenti, a tutti i docenti e dal preside che poi sovraintente a tutto questo e c'è poi il consiglio di istituto. Quindi i genitori non devono avere nessun tipo di paura perché poi le scuole sono un luogo di educazione. Sono stati strumentalizzati alcuni episodi che sono successi in alcune realtà nella maggior parte delle scuole. Laddove c'è fortunatamente dei progetti di educazione all'affettività sono condotti nel rispetto totale e assoluto dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, dei bambini, delle bambine ed educano semplicemente al rispetto. I genitori però hanno tutte le possibilità di interagire con la scuola e di non usare in modo strumentale questa questione del gender che io trovo vergognosa. Beh insomma mettiamola così non chiamerà nessuno a questo call center specchio. Mi auguro appunto che non chiami nessuno, è un'iniziativa inaccettabile a mio avviso che crea veramente delle discriminazioni, a parte il fatto che la teoria gender è qualcosa che è stata inventata e quindi bisognerebbe partire proprio da questa questione. In secondo luogo crea veramente la possibilità che chi giudica chi è la famiglia tradizionale, quali sono i valori della famiglia tradizionale, chi si può ergere a giudice di questioni così delicate, così personali, che riguardano proprio la sfera individuale e personale dell'individuo. Io lo trovo veramente inaccettabile e molto molto grave. Si riduce tutto un po' a delle rimostranze che arrivano magari anche da persone che non sanno esattamente di cosa si sta parlando, perché poi l'errore è quello che allora uno pensa al gender, basta solo un qualcosa che esuli da quello che uno considera la famiglia tradizionale e subito si potrebbe scatenare il putiferio. Voglio solo un principio a dire che il gender è basato proprio sull'identità, su un'identità maschile e femminile comunque e quindi non c'è l'annullamento del maschile e femminile, il maschile e femminile esistono e sono due identità che si rapportano tra di loro, questo bisognerebbe spiegare. Evidentemente le persone che parlano non sanno neanche di cosa stanno parlando. Ecco, forse bisognerebbe formare prima tutti su queste definizioni, affinché poi si possa prendere anche posizione da una parte o dall'altra, perché poi le opinioni sono sempre ben accette tutte. Specchio, si voleva aggiungere poi cosa? Sì, volevo aggiungere questo, che non è solo questione di formare, è una questione culturale. Certo, sì, formare intendo dire far conoscere gli aspetti basilari di un argomento. Gli aspetti basilari però è vero che questo paese dal punto di vista proprio dei diritti civili è ancora molto arretrato, questo bisogna purtroppo riconoscerlo e su questa arretratezza bisogna lavorare, soprattutto all'interno delle scuole, non creando discriminazione ma come si diceva facendo capire quali sono le chiavi di lettura per poi poter fare delle scelte senza discriminare. Sì, c'è però che abbiamo un ascoltatore, sì. Chiudo velocemente dicendo, allora la realtà che abbiamo di fronte è quella in cui noi abbiamo delle famiglie che non sono più le famiglie tradizionali di una volta in cui c'era marito, moglie con i bambini. Abbiamo delle famiglie anche composite, abbiamo genitori che vengono da esperienze, famiglie allargate che vengono da esperienze matrimoniali precedenti, figli da matrimonio diversi, ci sono persone dello stesso sesso che convivono. La famiglia è un concetto che sbagliamo a voler definire semplicemente fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Perché? Perché la realtà ci porta di fronte ad una situazione non solo tra delle coppie omosessuali ma delle famiglie normalissime. Allora a questo punto io che convivo con una persona, devo essere discriminata perché ho una famiglia allargata. Che cosa vuol dire? Allora o guardiamo in faccia la realtà e cerchiamo di tutelare quella che è la realtà che noi abbiamo di fronte. Queste famiglie, i bambini che fanno parte di queste famiglie oppure veramente noi ci agganciamo ad un passato che però sappiamo benissimo non potrà più essere. Il senso è che un bambino, una bambina può avere un fratello, una sorella e avere però due genitori diversi. Ma la realtà di fatto perché dobbiamo discriminare queste famiglie? Certo, poi discriminare la realtà significa anche creare proprio delle distorsioni. Sì, sì, sì. E queste sono pericolose. E sono pericolose perché poi vediamo episodi anche drammatici. Bisogna stare attenti sicuramente. Proprio dei minori. I bambini. Nicola buonasera. Buonasera Manuela. Ciao Nicola. Prima di tutto auguro alla sua persona un felice Natale e un buon anno nuovo. Nicola ricambio ovviamente. Ecco, grazie Manuela. Mentre per i politicanti vi auguro di fare un Natale e un fine d'anno come lo farà Nicola. Cioè come passerà? Dici cosa farà Nicola? Qui mi fermo, Manuela. Capiranno loro come sta passando l'agenda queste feste qua, che tanti magari non hanno da mettere neanche un piatto sulla tavola a Natale. In tutti i modi andiamo avanti. Io vorrei parlare un po' della legge di stabilità. Prima si chiamava finanziaria. Perché mi hanno portato indietro di 50 anni questa legge di stabilità attuale. Perché io ho visto regalie dappertutto. Che cosa non ti piace della legge di stabilità Nicola? Lo sto dicendo. Allora, c'era un emendamento che a me mi andava bene, che parlava che l'accompagnamento per i tetrapleggi e parapregi non dovrebbe essere, come si può dire, reddito, è stato boccato. E poi sento che danno 9 milioni di euro al casino di campione. Ma bravissimi questo governo, Santa Madonna. Mentre la spesa per i tetrapleggi e parapregi era di 3 milioni di euro. 9 milioni si sono trovati per il casino. 3 milioni. Adesso questi qua si troveranno in difficoltà. Perché essendo un accompagnamento lo fanno passare per reddito. Tanti servizi questi gli salteranno. Va bene Nicola. Va bene. Ti ringrazio. Io ringrazio te Emanuele. Mi fermo qua che è meglio perché ci sono, ci sono, guarda, ci mangia dappertutto. 20 milioni ai forestali. Abbiamo compreso. Ti faccio rispondere dall'onorevole Centemero che ha fatto notte se non sbaglio. Ciao Nicola, grazie, auguroni per l'approvazione della legge di stabilità sabato, giusto? In aula, in aula alla Camera dei Deputati. Bene, possiamo semplicemente dire che questa legge di stabilità è una legge fatta totalmente in deficit ed è una legge di stabilità a manovra finanziaria, come la vogliamo definire, che è piena di interventi spot e non ha una visione, diciamo, di intervento pluriennale fatta per tappare alcuni buchi. Abbiamo visto appunto situazioni di disuguaglianza come quelle che ci ha denunciato Nicola, sostanzialmente. Sì, che ci ha portato proprio, ha fatto anche i conti. Perché Nicola, una cosa bisogna dire, magari è un po', insomma, si arrabbia su molti aspetti, però studia, legge, quindi è molto consapevole di quello che succede. Poi ovviamente ciascuno ha le sue opinioni. Vuole aggiungere qualcosa, Specchio, se no dalla linea al collega in redazione. Diciamo che tutte le leggi di stabilità hanno, come dire, delle luci e delle ombre. Sicuramente ci sono degli aspetti da valorizzare, degli aspetti da migliorare, questo è sicuro. Poi, sulle questioni particolari che sollevava la persona che ha telefonato, certo, io non avrei dato soldi a un casino, ecco. Se questo, ecco, magari su questo potete essere d'accordo, no? Dice come, tolgono i soldi a chi ha bisogno una categoria più debole, però li danno a chi vuole andare. Esatto, ci sono degli interventi che avrebbero potuto essere dirottati in altre direzioni, insomma. Sì, sì. Va bene. E su questo il Parlamento ha, insomma… Si è scatenato. Si è scatenato, sì, dobbiamo dire le cose per come sono. Però poi, ricordiamo che ieri è stata approvata al Senato, quindi è fatta. Beh, si può sempre migliorare. Sì, sì, sì. È qualcosa che non si può più rivedere. Sì, va bene. Filippo Colombo dalla redazione, a te.